Brasile 2014 deve ancora cominciare ma a Bari sarà già notte mundial. Alle 20.30 si giocherà la Tina Bari, semifinale di ritorno playoff e tra i tifosi solo 1.500, quelli al seguito della squadra al Francioni, cresce l'attesa e la speranza. Dopo il 2-2 dell'andata dove a lasciare il segno è stato soprattutto l'arbitro con decisioni a dir poco discutibili, per i biancorossi c'è un solo risultato a disposizione, la vittoria per continuare il sogno e staccare il biglietto della finale. Intanto anche stasera saranno migliaia, probabilmente più di 10.000 che seguirono il match crotone-bari, i tifosi che vedranno la partita sul maxischermo allestito in Piazza della Libertà dopo il via libera della Prefettura. Per l'occasione sono state disposte alcune limitazioni al traffico, fino alle 24 è istituito il divieto di sosta zona rimozione, oltre che in Piazza della Libertà di fronte alla Prefettura, anche in Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra via Cheiroli e via Roberto Dabari. Nello stesso tratto, dalle 18.30 alle 24 è istituito anche il divieto di transito. Per ragioni di ordine pubblico con specifica ordinanza sindacale, è stato disposto dal pomeriggio alla mezzanotte il divieto di vendita, somministrazione e consumazione di bevande alcoliche e non in contenitori metallo e vetro negli esercizi pubblici del quartiere Miurà. Disposto anche un servizio di controllo serrato per contrastare e reprimere i venditori abusivi.